E' tu Andrea! Dovevi mandarla Aldo per riuscire a prendere Ciao! E' mia Aldo! Pronti? Aspetta, non riprendere questo da via, perchè non è capace Ma è figlio! Una battilarda lì, si è montato la testa con quella battilarda Credevo fosse difficile, invece si gioca meglio Gioca meglio Meglio non lo so, perchè tra l'altro non l'ho provato Dai! Aspetta Andrea, bisogna spiegargli i principi, vai! Sta lì, sta lì Da quando hai vinto il terzo torneo nel 75, Andrea, si è voluto il gioco Settantasette Dai 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 dai! Vai! Vedi se il scivolo e cado? Mi sono appoggiato! Che pensi essere appoggiato? Alla prima, alla prima, hanno detto che hanno visto le figlie di Obama Ma facciamo più garatti Mi sono appoggiato e la sua Che cosa si fa la vita della giornata? Che cosa si fa la vita della giornata? Che cosa si fa? Che cosa si fa? Più alto! Che cosa si fa la vita della giornata? Non esprimente! Video malegrazione Ma facciamo più Se lo rompire